Ben ritrovati. I politici per farsi digerire nuove tasse e nuove leggi, come quella che ha prolungato l'età pensionabile, usano una frase ripetuta come un mantra, ce lo chiede l'Europa. Spesso è una bugia, ad esempio una balla clamorosa è stata la legge voluta dal Ministro Fornero che ha riformato l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che permette libertà di licenziamento senza giusta causa. Il pacco ci è stato preparato da Monti e dalla Fornero come fosse una regola che richiede l'Europa e che grazie a questa nuova legge arriveranno finalmente gli agoniati investimenti stranieri. La verità purtroppo è un'altra, non ce l'ha chiesto l'Europa e questi investimenti non vengono fatti in Italia per altri motivi, ma per altri motivi ben precisi come ad esempio la troppa burocrazia, la tassazione eccessiva, il costo dell'energia, i tempi delle procedure infinite e la giustizia penale, la giustizia sia penale che civile che non funziona. Ma c'è un altro motivo che allontana maggiormente dal nostro Paese gli investitori stranieri, è la corruzione a tutti i livelli che si registra nel nostro Paese, con un costo valutato dalla Corte dei Conti in circa 60 miliardi di euro annui. Siamo un Paese corrotto, sul versante corruzione siamo al penultimo posto in Europa, un gradino sopra la Grecia. E i casi che stanno emergendo nel Lazio, in Lombardia, in Sicilia, in Puglia e in Calabria ne sono la testimonianza. In Lombardia ad esempio PDL, Lega e PD non vogliono mostrare le distinte dei costi dei loro gruppi consigliari in regione, motivandolo con non sono cose nostre, c'è la privacy. Privacy un corno, sono soldi dei contribuenti che hanno il diritto, sacrosando di sapere se le loro tasse sono state usate correttamente. E poi le dichiarazioni stomachevoli, non uso altri termini, di Fiorito, il tesoriere d'ex grapple gruppo del PDL nel Consiglio regionale del Lazio. Questo individuo dichiara urbi e torbi senza alcun imbarazzo nelle TV dove spesso ospite che lui non si sente un ladro, che ammette, bontà sua, di essere stato un po' leggerino nel distribuire denaro pubblico. Ma non si sente un ladro. Uno che incassava dalla regione Lazio 31 mila euro netti di indennità mensile, più 21 mila euro sempre mensilmente e sempre netti per il funzionamento del gruppo consigliare del PDL, di cui era capogruppo. Acquista con i soldi dei contribuenti un SUV BMW da 88 mila euro per sé, più una piccola smarda 16 mila euro per una sua segretaria, che se ne va in vacanza in Sardegna al modico costo di 30 mila euro, sempre con denaro pubblico, che esporta all'estero su diversi conti personali oltre 800 mila euro. Eppure questo esemplare di razza padrona politicante non si sente un ladro, non prova nessuna vergogna. Ha pure dichiarato con una incredibile faccia di bronzo che alle prossime elezioni regionali, visto che la Polverini si è dimessa e quindi saranno presto, si presenterà nuovamente come candidato. In un paese minimamente normale un personaggio simile sarebbe sbattuto in galera buttando via la chiave. Ma io, come dicono i garantisti a giorni alterni, sono un giustizialista, uno che vorrebbe che il farabutto che ruba, malversa e delinque fosse messo in carcere. Ma attenzione, questa fetida cloaca non nasce per caso. Nei primi anni 90, quando la prima repubblica, marcia fino al collo, affondò grazie alle indagini su tangentopoli del pool manipulite della procura di Milano, nacque una bislacca seconda repubblica, guidata da un figlio di quella classe politica che aveva distrutto il paese. Quel figlio è proprio lui, Silvio Berlusconi, figlioccio politico di quel bottino Craxi, il dominus politico di quegli anni. Causa il berlusconismo imperante di questi due decenni si è persa un'occasione d'oro, quella che dopo manipulito ci avrebbe permesso di entrare finalmente nel novero dei paesi più civili, dove il senso etico non è un orpello, ma una vertù indispensabile per chi gestisce la cosa pubblica. Invece con Berlusconi sono state alentate anche quelle poche barriere etiche e legislative che cercavano di contrastare il malaffare. E così il saccheggio del denaro pubblico è continuato come prima e più di prima e il paese sta scivolando verso quegli stati che un tempo chiamavamo del terzo e del quarto mondo. Un esempio per corroborare la mia denuncia sta nel fatto che è da lontano 1999 che l'Unione Europea ci chiede di ratificare la Convenzione di Strasburgo contro la corruzione penale e la corruzione civile. Ma in questo caso il manta ce lo chiede l'Europa non vale. Il disegno di legge anticorruzione è in stand by e fermo in Parlamento causa il boicottaggio del PDL e della Lega che lo vorrebbero anacquare e pensare che questo DDL recepisce solo in parte la Convenzione di Strasburgo del 1999. Ma questo argomento sarà l'argomento della prossima isola. Ci rivediamo mercoledì prossimo.